Eccoci l'entrata in campo delle due compagini, ci troviamo nella cittadella d'Aerosport di San Puceto, frazione di San Giovanni Piatino, decima gara di campionato categoria giovanissimi, girone Chieti, tra San Puceto calcio con la classica divisa viola e la Virtus Castelfrentano con la divisa bianca con risvolti giallorossi, il direttore di gara della sessione di Chieti, ce lo conosciamo che è venuto pure poco tempo fa a Ripa, a Teatina, sta facendo il sorteggio, il capitano è Lorenzo Cuniberti, detto Pitbull, adesso si scambiano i saluti, il direttore di gara va a controllare l'altra rete, a posto, adesso ci vanno a salutare le banchine avversarie, a posto, ok, la panchina si è andati là, scambiate, si sono salutati la panchina, ok, bocca al lupo, a parte come guardaline, Simone, mettete bene perché...